la vedete questa bellissima lupetta questa bellissima lupetta si chiama bimba guardate un po gli occhi bimba un occhio azzurro e un occhio marrone perché bimba è un incrocio con un aschi vedete che il musetto e anche tutta la mascherina ce l'ha un pochettino richiama bimba non è più giovanissima si trova qui al baudi alpignano però è una cagnolina ancora molto dinamica allegra assolutamente non è una cagnolina anziana ha solo qualche annetto è molto brava e socievole e patate guardate scodinzola sempre lei non ha ancora smesso un attimo di scodinzolare e brava e patata ubbidiente quando va al guinzaglio se non ci sono cagnolini che le danno il cattivo esempio lei non tira perché educata è una cagnolina che abbaglia pochissimo non disturba è vero tata guardatela un po lei è socievole anche con altri cani vabbè a parte qualche eccezione perché chiaramente non con tutti si può andare d'accordo però solitamente ha avuto tanti compagni di gabbia e con tutti è andata d'accordo è patata di glielo un po lei è una taglia medio grande bimba eh diglielo un po può vivere anche in un alloggio basta poi portarla a fare le passeggiate è una cagnolina non eh così esuberante che può rompervi oggetti in casa cose del genere se invece avete il cortile ben venga se poi avete ancora un compagno lei è ancora più contenta perché avere se avete qualche altro cagnolino lei è contenta perché è molto saccevole è vero tata bimba guarda un po diglielo un po vi aspetto qui al baudi alpiniano grazie a tutti